Terremoto 150 è il titolo del documentario che racconta il tragico terremoto di 6,3 gradi della scala Richter che il 29 giugno del 1873 ha colpito la zona dell'Alpago, Belluno e l'Alta Trevigiana. Per questo motivo l'anno scorso in occasione del 150esimo anniversario abbiamo pensato di realizzare tutta una serie di iniziative. Nel corso del 2024 è stato realizzato questo bellissimo documentario, narra un po' in maniera anche molto semplice e fruibile, pensato anche per le scuole, narra di quello che è successo proprio nel 1873. Il documentario che si inserisce nella cornice delle iniziative organizzate dal comune di Alpago per ricordare il tragico fatto accaduto fa parte delle progettualità sostenute dall'assessorato alla protezione civile della regione Veneto. Conoscere il rischio per sapere come affrontarlo. Per conoscere il rischio è necessario divulgare al massimo cosa significa rischio e quali sono le modalità per affrontarlo nella maniera più corretta possibile. Uno degli obiettivi che si è posto alla regione attraverso il finanziamento di questo documentario è appunto quella di creare una cultura della sicurezza, far sapere ai cittadini quali sono i rischi a cui siamo tutti esposti, far sapere che non esiste il rischio zero, ma che è possibile anche con alcune azioni che mettiamo in pratica noi stessi ridurlo al massimo. Terremoto 150 sarà presentato in anteprima a venerdì 29 novembre alle 20.30 presso la Casa della Gioventù di Postalpago. Il documentario, che ha una durata di circa un'ora, è stato realizzato dai registi Eros De Bona e Patrico Livotti ed è accompagnato da una colonna sonora originale realizzata da Mattia Gosetti. Si basa sulla ricerca di informazioni, c'è stata poi una fase di scrittura, in quanto noi abbiamo un presentatore che è Marco De Martín, abbiamo avuto una fase di scrittura, quindi abbiamo seguito questo filo conduttore qui, scrittura, girato e poi in montaggio. Quello che è rimasto a noi è scoprire, anche Belluno stessa, ma anche i nostri luoghi, da un'altra prospettiva, dalla prospettiva aerea. E soprattutto scoprire che cosa è successo e toccare ancora le pareti con mano, quelle che sono a Belluno, fa un certo caso. Grazie a tutti.